Ciao a tutti, allora siamo pronti? Quest'anno è un bel parterno uguale? Quest'anno è un bel parterno, è veramente di alto livello, quindi speriamo di fare bene. Ci stai mancando l'anno scorso, ho pensato di metterti insieme ad altri tre dei nomi, il tabello, il sordo e il sordo. Mi siete mancati molto anche voi, anche perché Monza è uno dei weekend più belli dell'anno, perché possiamo correre e divertirci senza tanta pressione, quindi speriamo che sia bello. Una spinta anche dal Sizz quest'anno? Sì, sì, il Sizz ci manca un sacco, lui si sarebbe divertito molto quest'anno. Il po' che non può, vale? Bene, maniera, per colore, mi è bella, quanti non è sì? Insieme a lui, Luigi Pirono, con la rega di Massi. Corrale di Fontana, Luigi Fontana. Anche i miei altri miei, anche i miei, i miei, i miei, i miei, i miei. Una troppa per lontarsi. Un'altra cosa è un'altra cosa. in questo momento è il doppio capo di direzione bellissimo, pulito e spettacolare 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 e spettacolare